Der Wolf, Carmine e Tomasone! Da Sunea, Nicaragua, vive a Bassano del Grappa del Team Gonzales. A 28 anni, alto 1,63 m, alla filancia 58,150 m, con un record di cinque incontri, tre vittorie e due sconfitte, accompagnato all'ambolo dal maestro Gigi Ravelli, Lester Cantigiano! Da Contrada Avellino, del Team Loreni di Passport, accompagnato dal maestro Michele Piccariello, a 33 anni, alto 1,65 m, alla filancia 57,300 m, con un totale di 16 incontri, 16 vittorie e 5 K.O., Nel 2014, campione italiano, nel 2015, campione intercontinentale della WBA, nel 2015, campione dell'Unione Europea, EBU, nel 2016, ritorna campione intercontinentale della WBA, Signore e signori, all'angolo rosso, Mr. Wolf, Carmine e Tomasone! L'incontro è previsto sulla distanza delle sei riprese da tre minuti. Fuori i secondi, è l'inizio della prima ripresa. Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Anticipa. Grazie a tutti. 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 Eh, quello è il tuo fuggitale? Quello è? Bene sulle gambe, convinto. Vieni i piedi a terra. Ehi! La doppi con quel testo quando venite di lui. Bravo, ecco, ecco. E' quello dei bai. Convinto, lo devi fermare, carico. Bene quel sinistro. Uno, due, uno, due. E' uno, due, uno, due. Levate quel uno o due. Ehi! Err'u! 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 Ah, metto buono chi è tu dentro, calmi nello, senti. Fagli sentire questo, metto un po'. Tiene la misura col sinistro, non battere dall'olvato. Uno, due, tre, tre gol. No, due, tre, 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 tre. No, due, tre, 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 tre. No, due, tre, tre, tre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.